Buongiorno, mi chiamo Greta Rossi e insegno Scienze degli Alimenti all'Istituto Alberghiero. Una peculiarità degli istituti professionali è che in questo tipo di scuole i saperi teorici e i saperi pratici si intersecano per darsi reciprocamente senso. Per quel che riguarda la mia disciplina Scienze degli Alimenti posso dire che nell'arco dei cinque anni gli alunni imparano a conoscere gli alimenti e tutto il mondo che gira intorno agli alimenti a 360 gradi. Si parte analizzando i nutrienti contenuti negli alimenti e le caratteristiche chimico-fisiche di questi nutrienti, gli effetti che hanno sulla salute umana. Poi si valuta anche quelle che sono le modificazioni dei nutrienti in seguito a cottura. I ragazzi inoltre imparano a manipolare, trattare, conservare gli alimenti in modo da prevenire le malattie a trasmissione alimentare. Imparano anche a utilizzare gli alimenti come strumento per il benessere della persona nell'ambito di una nutrizione sana ed equilibrata. Inoltre imparano a valorizzare i prodotti tipici delle nostre regioni italiane, la qualità degli alimenti creando percorsi enogastronomici. E non da ultimo imparano atteggiamenti sostenibili sia in cucina che in sala che nell'ambito dell'accoglienza turistica. Possiamo dire che per i cuochi, i pasticceri e i barman gli alimenti e le bevande rappresentano le materie prime e quindi devono imparare e lo fanno a conoscerle alla stregua, ad esempio degli ingegneri per quel che riguarda il cemento e i mattoni. Grazie. 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 Grazie.